Oggi vi parlo dei buchi, complice a un articolo di filosofia interessantissimo, spassosissimo che ho letto questa mattina, vi metterò poi il link nelle note del programma. Mi sono ritrovata a pormi una domanda che non m'ero mai posta in vita mia, e cioè che cosa è un buco? Dal punto di vista filosofico, ma anche dal punto di vista della descrizione, se voi doveste descrivere un buco, avreste difficoltà a descriverlo perché i filosofi e gli ontologi ancora non ci sono riusciti, ci stanno lavorando. È però una cosa che tutti riescono a individuare, anche i neonati individuano il buco così come individuano invece gli oggetti presenti nella vita reale. Allora, ci sono diverse scuole di pensiero sulla definizione del buco. Alcune dicono che il buco è un'illusione perché non è formato da nessun materiale e si può descrivere unicamente descrivendo quello che non è, cioè quello che lo circonda. Anche perché dal punto di vista linguistico si può cambiare la frase c'è un buco nel foglio dicendo il foglio è perforato, quindi si cancella completamente la presenza del buco. Ci sono quindi diverse teorie che cercano di spiegare come si possa definire il buco e io me ne sono lette. Sono molto interessanti, ripeto, non avevo mai riflettuto su una cosa che fa parte della nostra vita. I buchi sono dappertutto, a cominciare dalle asole degli occhielli ai buchi dove infiliamo le prese quando attacchiamo il nostro computer. Quindi alcuni dicono che i buchi sono delle porzioni descritte, qualificate di spazio-tempo, quindi il mondo è pieno, l'universo è pieno di spazio-tempo, solo quando c'è il buco noi stiamo prendendo una sezione di questo spazio-tempo e la stiamo definendo. Altre teorie parlano del buco come la materia negativa del materiale che le ospita. Ci sono delle caratteristiche comunque che accomunano i buchi. Anzitutto i buchi, tenetevi forte, sono sempre parassiti perché non esistono isolati, hanno sempre bisogno di una materia che li ospiti. Poi i buchi sono sempre riempibili e non necessariamente scompaiono, a mano che non si riempiano con lo stesso materiale di cui sono formati. Quindi il buco di sabbia, se ci metto la sabbia dentro il buco sparisce, ma un buco in un pezzo di legno, se ci metto dentro della carta, il buco continua a esistere. E poi il buco coesiste sempre con il materiale che lo forma. Infatti non è che se riempio un buco il buco si sposti per far lasciare lo spazio al materiale con cui lo sto riempendo. Insomma, è un discorso lungo. Vi metto il link, leggetelo perché è veramente così affascinante. Viva i buchi!